La fase 2 ha avuto una nuova svolta con le riaperture di tante attività del 18 maggio, dopo quelle del 4. Eppure la guerra al Covid-19 non è ancora vinta. E questo è il momento della convivenza col virus, col rispetto dei vari protocolli dettati per le varie attività e del mantenimento dei buoni comportamenti che tutti conoscono, il distanziamento sociale e l'uso dei DPI. È una questione di attesa. Affinché la scienza e la ricerca non sintetizzeranno un vaccino contro il coronavirus, allora si potrà tornare alla normalità. Una parola, vaccino, che è sulla bocca di tutti, che in tanti hanno scelto di farsi iniettare per fronteggiare l'influenza. Ma cos'è un vaccino? Lo abbiamo chiesto al professor Claudio Ciferri, docente di malattie infettive dell'Università del Molise Unimol e medico nelle corsie del Santissima Annunziata di Chieti. Il vaccino è una sostanza che introduciamo, un farmaco, se vogliamo, che introduciamo nel nostro corpo che sfrutta le capacità del sistema immunitario di sviluppare un'immunità, quindi una risposta contro un agente biologico senza dover incontrare l'agente biologico. Quindi nel vaccino è contenuto una sostanza che si chiama poi antigene, che è la sostanza che provoca la risposta immunitaria, che in genere è la sostanza che la provoca fisiologicamente, cioè la risposta che noi facciamo quando incontriamo l'agente biologico. In questo modo noi, senza incontrare l'agente biologico, riusciamo a sviluppare l'immunità, cioè la protezione contro l'infezione. In generale un vaccino impiega dalle 2 alle 6 settimane per dare un'immunità efficace. Non è detto che una singola dose di vaccino sia sufficiente per dare una protezione immunitaria duratura nel tempo, quindi esistono vaccini per cui è necessario ripetere le dosi per avere una copertura nel tempo. Presa dall'emergenza Covid-19, la comunità scientifica sta dando vita ad una vera e propria caccia al vaccino. Tantissimi gli studi in atto. Su quali versanti e con quali prospettive? Se tutto va bene e non è detto che tutti i vaccini funzioneranno, dovremmo avere un vaccino nell'ottica di 6-12 mesi. I vaccini allo studio sono di vario tipo. Alcuni utilizzano gli anticorpi prodotti dai soggetti umani per produrre, al contrario si chiamano vaccini reverse, per produrre l'antigene da proprio utilizzare per far produrre questi anticorpi. Altri utilizzano gli antigeni di superficie, cioè le strutture esterne del virus, tra cui la proteina Spike, che si ritiene provocano la risposta immunologica del soggetto e quindi produrre solo la proteina per somministrarla. Altri stanno utilizzando un meccanismo abbastanza standard, che è quello di uccidere, rendere inattivo il virus e somministrare per intero il virus. Quindi i tipi di vaccini sono tanti, ce ne sono anche altri, ma sono tanti e le strategie sono diverse. Probabilmente i vaccini reverse sono molto interessanti da questo punto di vista, perché sviluppano un meccanismo che noi abbiamo già, quindi gli anticorpi prodotti da soggetti che guariscono, per produrre, da un punto di vista di biotecnologia, l'antigene che ha prodotto quell'anticorpo. Quindi sono estremamente interessanti, sono un pochettino più elaborati dal punto di vista concettuale e produttivo. Da un punto di vista pratico, probabilmente i vaccini contro la proteina Spike o i vaccini da virus inattivato saranno quelli che arriveranno prima in commercio.